Eccola qui. Finalmente ho trovato una rappresentazione intatta del sacro manufatto degli Zeffo. Amico mio, vieni a vedere. Questo è Mictrul, alla cripta di Bogano. Vedi quell'oggetto che hai in mano? A quanto pare si tratta di un oggetto che permette a un utilizzatore della forza di percepire i misteri della cripta. Questa è la chiave e la guida. L'Astrium Zeffo. Ma chi ha distrutto le sue raffigurazioni e perché? Bisogna indagare più a fondo e tuttavia il prossimo passo è chiaro. Trovare un Astrium. Se ne esiste ancora qualcuno. Un Astrium. Mai sentito? Neppure io. Però ho una chiave. Sì, ho capito. Pare che sappiamo cosa dobbiamo trovare. Così sembra. Intanto abbiamo acquisito giusto due o tre punti abilità nel corso delle ultime partite. Giusto due o tre. Allora, vediamo un po'. Non trovo l'utilità di una mossa del genere in battaglia, però proviamola. molto bene, Padawan. Hai aperto la strada. Di cosa stai parlando? Dovevo trovare la tomba. E adesso che ho quello che voglio, non mi servi più. Puoi rimediare a quello che ha fatto. Grazie. Spero che la nuova cretografia la tenga fuori. No. Chi ha abbattato giù? Il processore di un droide sonda. Cosa si prova a manomettere un altro droide? Già, deve essere davvero strano per te. Per una buona causa, no? Meglio contattare la Mantis. Trilla di sicuro sa dove si trovano. Sicuro di averlo riparato. Non rispondono. Non mi piace. Torniamo indietro. Non c'è nessuno. Che sia una trappola. Si direbbe che non riusciamo a tenercene lontani. Aspetta. Hai sentito? Dobbiamo inviare il nostro rapporto. Prima possibile. Non puoi scordarti la promozione. Ah ah. Molto divertente. Lo vedo. Al lavoro. Stiamoci dentro. Sul bersaglio. Vi dì. Dobbiamo passare per forza di qua. Perché di qua invece dove porta? Puoi farmi passare di qua? Mettila! Un intruso? No! Fuoco sul nemico! Avvio attacco! Poveraccio. Vediamo cosa c'è qui dietro. Pensi che dovremmo controllare... L'abbiamo quasi eliminato! Concentrare il fondo! Guardiamolo! E' troppo veloce per me! Lanciane uno, BD! Quello è uno steam! Smettila di cercare di fuggire! Ancora qualche colpo è da fatta! Andiamo! Andiamo! Un nemico? Qui! Ti prenderò! Ti vedo! Ti vedo! Sì, non è l'altra da giusta questa. Sì, non è l'altra da giusta questa. La pausa è finita! Ah, ci penso io. Un colpo è per te, è finita. Aiutami, ti prego! Sì, mi sono perso. Abbiamo un intruso qui! Qualcun altro lo attacchi! Non ti darò tregua! Nessuna ritirata! Stiamo gli addosso! Prendiamo i geni! Ogni volta... Ho visto un nemico! Sì! Ce l'ho! Sì, c'è entrato! Sì! Sì! Siamo in guardia! Oh no! Adesso è arrabbiato! Spero di ricevere presto! Ah, ecco! Sai qualche barzelletta, BD? Non lo so, perché? Simpatica! E ci siamo giocati, Carlo. Adesso si mette a fare barzellette con i droidi. Beh, dopo aver fatto il rottomatore così tanti anni ed essere sopravvissuto in una purga, c'è di... Credo che il diventare pazzi sia... ...pressoché imprescindibile. Ho paura di come troveremo Kenobi all'inizio della serie. Ho com'è l'impressione di essere già passato di qua. Ho capito! Ho capito! Ho! Ho capito! Ho cauchano controllo? Hai... Ho capito! Ho capito! Ho com'è? Ho capito! Ho capito! Ho capitito! Ho capito! Sai dirmi qualcosa sulle creature chiamate Yotas? Sono abbastanza forti da strapparti le braccia come se nulla fosse. Oh, sono così forti, eh? Oh, anche di più. Possono spezzare una persona a metà. Direi che per oggi ho saputo abbastanza. Ok, quello mi sa che è nuovo. Io non ho nemmeno una vita. Ti vedo, Jedi! Molto semplice. Fermerò tutti i tuoi attacchi. È agile? Un insorto in meno a cui vadare. Quindi ci siamo persi per tutto questo tempo, abbiamo perso le energie sufficienti per... Adesso ci ritroviamo a dover memorizzare un percorso che mi sono già dimenticato per tornare a questo boss e probabilmente andare oltre a questo. Beh dai, siamo messi bene. Un intrudo! Sto, sto sparando! Hai sentito? Perfetto! Non voglio morire qui! Colpitelo, maledizione! Dovete sparare! Nessun problema! Ah! Ah! Sì, sì. Aspoltatore, tempo a rientro al campo base? Non prima di tre ore. Ricevuto, prosegui.